Un atto d'amore arrivato nel pieno della sofferenza, un gesto di solidarietà in grado di superare il dolore della morte per ridare speranza alla vita. A compierlo i genitori di una ragazza di Corato, morta all'ospedale Bonomo di Andria, hanno dato il consenso alla donazione delle corne della loro giovane figlia. Si chiamava Federica e aveva solo 21 anni. Pochi giorni fa era stata accolta da un improvviso malore che poi l'ha uccisa. I suoi occhi adesso saranno quelli di qualcun altro. Era stata lei stessa a deciderlo fin dall'inizio, dichiarando, quando ha fatto la carta d'identità, di essere favorevole alla donazione dei suoi organi. Il resto lo hanno fatto mamma e papà, rispettando la sua volontà. La donazione delle corne è stata effettuata presso l'ospedale andriese, dove solo pochi giorni fa è stata istituzionalizzata alla struttura di coordinamento tra pianti. Siamo profondamente addolorati, ha commentato il direttore generale della ASLBAT Alessandro delle Donne, ma il gesto di Federica e della sua famiglia è particolarmente significativo per il carico emotivo che la loro storia porta in sé. Oggi più che mai sentiamo la necessità di sottolineare che la donazione degli organi e dei tessuti è un gesto di profondo amore nei confronti della vita che continua, anche nella sofferenza più lacerante. Il consenso alla donazione è in continua crescita, ha concluso delle donne, ma quello che conta è il messaggio che Federica e la sua famiglia hanno lasciato a tutti noi e ai più giovani in particolare. Nonostante la sua giovane età, Federica aveva già scelto e la sua volontà ha incrociato quella della sua famiglia, unita e compatta nel sostenere un gesto di continuità e di solidarietà.